la co2 o andride carbonica è imputtata di essere il principale gas serra e di essere implicata nei mutamenti climatici è un problema che può essere affrontato e risolto in diversi modi in primo luogo producendone meno in secondo luogo assorbendo quella prodotta in eccesso vediamo come partiamo dall'origine del problema anzitutto che una certa percentuale di enride carbonica sia presente nell'aria è del tutto naturale viene prodotta da un'infinità di processi biologici come per esempio respirare quindi finché ci saranno esseri viventi che respirano un po di enride carbonica sarà sempre emessa nell'aria per fortuna esiste il cosiddetto ciclo del carbonio che mette in equilibrio le fonti naturali di carbonio e quindi dei suoi ossidi con i processi che lo assorbono in condizioni normali la percentuale di co2 naturalmente presente nell'aria è di circa lo 0,04 per cento poi ci sono anche altri fenomeni naturali che emettono enride carbonica nell'atmosfera per esempio i vulcani ogni anno i vulcani immettono in atmosfera tra i 100 e 500 milioni di tonnellate di enride carbonica anche queste emissioni sono compensate dal naturale ciclo del carbonio anche se in anni di attività particolarmente intense possono contribuire ad un leggero accumulo e poi ci sono le attività umane poi ci sono le attività umane che rilasciano oltre 25 miliardi di tonnellate di co2 all'anno dalle 50 alle 250 volte i vulcani il punto è che mentre non possiamo andare da un vulcano e dirgli di fumare meno perché dà fastidio lo possiamo fare con le attività umane in ordine di importanza le principali fonti di co2 sono la combustione di idrocarburi la deforestazione e l'allevamento di bestiame per quanto riguarda la combustione di idrocarburi la principale fonte di inquinamento è la produzione di energia elettrica seguita a ruota dall'industria e dai trasporti quindi da un punto di vista macroeconomico il maggior impatto lo si avrebbe abbattendo le emissioni dovute alla produzione di energia elettrica questo problema si può approcciare in due modi diversi o producendo energia elettrica da fonti più pulite o imparando a consumarne meno meglio se ambo le cose ma ne parliamo dopo abbattere la co2 prodotta dall'industria è già un problema più complesso senza rivoluzionare tutti i processi cosa che comunque andrebbe fatta nel corso degli anni sarebbe già però possibile catturare una parte di quella emessa ma anche di questo parleremo dopo nella parte di co2 attribuita ai trasporti rientra un po di tutto dalla logistica delle merci al trasporto personale per esempio negli stati uniti circa il 60 per cento delle emissioni di co2 da parte dei trasporti è da attribuire ad automobili e furgoni costruzione mentre da noi questa percentuale è leggermente più bassa chiuso con gli idrocarburi deforestazione e allevamento mentre sulla deforestazione c'è poco da dire va fermata e basta di cose che non vanno nell'allevamento ce ne sono così tante che richiederanno un video a parte il modo più economico ecologico e naturale di assorbire co2 che esiste è quello di far crescere un albero ne avevo già parlato in uno dei primi video di questo canale le piante assorbono la co2 dall'aria per produrre cellulosa e lignina va notato però che quando un albero smette di crescere la sua capacità di assorbire co2 diventa quasi insignificante per cui lo si potrebbe abbattere per utilizzarne il legname per qualsiasi scopo che non sia la combustione come per esempio costruire cose e case anche altri organismi sono in grado di fissare la co2 dell'aria come certi batteri poi la si potrebbe catturare con sistemi artificiali sfruttando processi fisici o chimici i processi fisici sono in generale poco efficienti perché consistono essenzialmente nel far passare l'aria attraverso particolari filtri in grado di catturare l'eneride carbonica ora vista la bassa percentuale di co2 presente nell'aria per catturare una sola tonnellata di co2 bisognerebbe filtrare oltre 2500 metri cubi d'aria poi ci sono i sistemi chimici come per esempio quelli per riciclare l'aria all'interno dei sottomarini che sfruttano reazioni di idrossido di sodio e idrossido di calcio per assorbir la co2 oppure quelli impiegati nello spazio dove si preferisce l'idrossido di litio o il superossido di potassio nell'ottobre del 2021 in islanda è entrato in funzione il più grande impianto al mondo per assorbire co2 dall'aria mischiando l'eneride carbonica con l'acqua e iniettandola nel sottosuolo in rocce basaltiche la mineralizza per intrappolarla nel sottosuolo questo impianto è in grado di catturare circa 4000 tonnellate di co2 all'anno questo vuol dire che per risolvere il problema utilizzando soltanto questo sistema ci vorrebbero circa 6 milioni di centrali come quella appena inaugurata in islanda e noi come individui possiamo fare qualcosa sì certo ovviamente però un singolo individuo che adotta un singolo comportamento positivo è insignificante come una goccia d'acqua nel mare vediamo comunque quali sono questi comportamenti positivi alcuni sono abbastanza ovvi come per esempio che cercare di consumare meno energia elettrica possibile diminuisce il carico sulle centrali elettriche oppure che cercare di fare meno chilometri possibili in automobile diminuisce le nostre emissioni dirette altri comportamenti non sono così ovvi un po meno evidente è la co2 che si potrebbe risparmiare bevendo acqua dal rubinetto anziché comprata in bottiglia nel 2020 solo in italia sono stati venduti oltre 8 miliardi di bottiglie di plastica da un intere mezzo questo vuol dire oltre 12 milioni di tonnellate d'acqua che sono state spostate con dei camion diverse volte per diversi chilometri la logistica è una fetta consistente delle emissioni prediligere prodotti locali o a filiera corta può dimezzare la co2 dovuta ai trasporti di beni materiali sui vari metodi che si possono adottare a livello individuale per abbattere la co2 emessa tornerò in un prossimo video resta però il fatto che se queste strategie le adotto io e altre 12 persone non servono a niente sono cose che vanno fatte a livello di massa a livello di società ma ne riparlerò ancora alla prossima partiamo dall'origine del problema anzitutto che una certa percentuale del che una certa percentuale di endride carbonica sia presente nell'aria è del tutto naturale viene prodotta da un'infinità di processi biologici come per esempio respirare quindi finché ci saranno esseri viventi che respirano un po di endride carbonica sarà sempre emessa nell'aria